salve a tutti i bambini oggi affronteremo una nuova lezione di scienze l'argomento che tratterò riguarderà gli animali vertebrati già presenti sul nostro pianeta milioni di anni fa osserveremo per ogni gruppo di essi le loro caratteristiche prestate molta attenzione e buona visione a tutti a tutti Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Ciao ciao, la vostra, la voi, la tua...